La situazione è molto delicata, con un crescente numero di regioni che segnala un aumento dell'incidenza dei casi di Covid-19 e segnali di ripresa anche nella circolazione delle varianti comune a tutti i paesi europei. Lo ha detto il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale sull'epidemia. Il dato di circa il 18% di prevalenza della variante inglese in Italia è in linea con quelli europei, ma sappiamo che la variante inglese, nell'arco di 5 o 6 settimane, potrebbe sostituire completamente o quasi l'altro ceppo virale attualmente circolante, ha fatto sapere. In Italia, popolazioni più giovani contraggono l'infezione da SARS-CoV-2. Questo ovviamente ha un significato e lo stiamo analizzando, spiega. È un trend che si sta accogliendo anche in altri paesi europei. È oggetto di un'attenta analisi e nei prossimi incontri contiamo di presentare dati di analisi un po' più puntuali anche su questo fenomeno, ha sottolineato Brusaferro.